ciao a tutti ragazzi sono mattia e benvenuti in questo nuovo video molto molto triste devo dire molto triste penso che avrete già capito di che cosa si tratta e volevo fare un discorso per quanto riguarda franco bachiato che purtroppo ragazzi si è spento anche lui era siciliano se non mi sbaglio ha 76 anni ed era ammalato era un grande canto autore ragazzi mamma mia quanto mi piaceva la sua musica a me piaceva tanto la cura di gravitazionale voglio vederti danzare voglio vederti danzare mamma mia ragazzi devo dire che ha ascoltato veramente tantissimo questi brani li ho ascoltati ascoltando questo cantante ascolto tuttora la sua musica perché mi piaceva mi piace veramente tantissimo poi ovviamente con in mente magari una canzone che sentivo magari qualche anno fa che mi era fatta sentita magari per la prima volta mio abbraccio anche lui piaceva molto battiato e magari me lo vado a cercare me l'ascolto dieci volte di fila e vado avanti così per una settimana quindi in questo periodo dire che questo cantatore mi stava piacendo veramente tantissimo e purtroppo ragazzi così 76 anni era ammalato e si è spento stamattina penso stanotte io sto registrando ovviamente martedì quindi voi vedete il video giovedì un giorno dopo però ragazzi quando ho visto la notizia la mattina mi sono veramente veramente rimasto malissimo giuro non me l'aspettavo il fatto che comunque sia io ascoltavo anche la sua musica anche la sera prima stavo ascoltando la sua musica e nella notte purtroppo è venuto a mancare è stato un grande canto autore un'altra frase che mi che mi piaceva era superero le cosenti gravitazionali oppure io sì che avrò cura di te mamma mia che frase ragazzi non potete capire queste queste musiche queste canzoni no niente non vorrei lungare tanto il video ragazzi perché mi mi spiace giuro mi è piaciuto veramente tantissimo mi spiace tantissimo ci rincontreremo nell'ordino ovviamente lui continuerà a cantare perché era veramente gravissimo ha fatto tantissime di quelle canzoni spettacolari ragazzi ha venduto dischi su dischi giuro ha creato tanti di quei brani che non mi ricordo nemmeno i titoli talmente tanti che ne ha fatti e niente ragazzi purtroppo è così mi spiace volevo dedicare questo video in questo tributo niente grazie di tutto franco battiato continueremo ascoltare la tua musica e bella ragazzi e mi raccomando continua a cantare e dedicarci le canzoni beh ragazzi con questo video chiudo ti molto ti visto devo dire e spero che vi sia piaciuto bella e alla sera stessa in un'ora di franco il concerto in tv non tu ti interna la stanza mentre si danza danza e giro tu ti interna la stanza mentre si danza danza musica e balcani che lente danza torri pulgari di nulli sui braccietti al dentino non ci ha pensato due volte ragazzi a fare il video lo sto seguendo questa sera bam 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 dei riti tribali regni di scialani sono noi coppie di scialani che ballano grazie maestro dai due libri